Pomeriggio dal Beach Doctor, soluzione dei casi dalla diagnosi alla terapia che abbiamo visto in occasione di Ottobre in Rosa. Primo caso era quello di un tumore duttale in situ di 9 mm nel quadrante superesterno della mammella destra. Qui la proposta più adatta era quella di quadrantectomia e basta. La risonanza magnetica no, perché? Perché la risonanza magnetica ha delle indicazioni che vedremo tra poco e tra queste sicuramente non c'è il duttale in situ, che è un precursore non obbligato della malattia infiltrante, della malattia invasiva. Quindi le probabilità che cellule tumorali maligne si siano spostate al linfonodo sentinella, alle strutture anatomiche adiacenti o controlaterali, è quasi nulla. Per cui la risonanza non ci aggiungerebbe nulla. C'è un'indicazione al vaglio di studi in questo momento per eseguire la risonanza magnetica nei tumori duttale in situ di alto grado. Usualmente però l'alto grado abbiamo anche delle dimensioni un po' più elevate. È comunque un'indicazione di studio al momento e quindi la risonanza non andava bene. Così come non va bene la chemioterapia neodiuvante, che ha delle indicazioni per tumori particolarmente aggressivi. Come dicevamo, questo è sì un tumore maligno, ma è un precursore non obbligato di una cosa invasiva. Le dimensioni sono molto esigue, peraltro. Per quel che riguarda i due tipi di intervento, come vedete, la risposta esatta era quella senza linfonodo sentinella. Usualmente linfonodo sentinella si faceva sempre d'amblè, diciamo. La letteratura più recente ci dimostra che non è così. Queste sono le linee guida sulla neoplasia della mammella dell'Aiom, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che ci dice che il ruolo della chirurgia a livello ascellare per l'in situ è controverso. La dissezione, quindi la linfadenectomia completa dell'ascella, non viene presa in considerazione, in pratica se agli esami ecografici non vengono riscontrati i linfonodi sospetti. E in letteratura ormai abbiamo numerosi articoli che ci dicono che sul duttale in situ il linfonodo sentinella non va fatto. Fa eccezione ovviamente la mastectomia. Questo articolo, ne ho preso uno tra i tanti, ci dice che sostanzialmente soltanto nelle donne sottoposta a mastectomia, che tendenzialmente sono quelle con un'estensione molto ampia di malattia, diciamo che siamo sopra i 6 cm, soltanto il 2,7% di queste pazienti ha avuto una metastasi a livello dell'infonodo sentinella, una metastasi ascellare. Onde per cui con un duttale in situ, così esiguo sotto il centimetro, fare l'infonodo sentinella non ha indicazioni. Secondo caso che abbiamo visto era quello di un tumore lobulare infiltrante di 13 mm al quadrante inferno interno della mammella sinistra. In questo caso va proposta la risonanza magnetica, perché da linee guida, le linee guida a cui ci rifacciamo sono quelle proposte da Eusobi, la società europea di breast imaging, Eusobi ci dice in questo articolo, in queste guidelines, che in particolare in caso di mammella densa la risonanza preoperatoria è raccomandata, in particolare col carcinoma lobulare invasivo, perché si è visto che questi tumori intanto, dimensionalmente alla risonanza appaiono maggiori rispetto alla mammografia e l'ecografia, proprio perché la risonanza permette una miglior valutazione topografica, e quindi permette di valutare meglio la dimensione. Inoltre, in un terzo dei casi si vengono a trovare altri foci di malattia, o addirittura una malattia multicentrica. Multifocale è quando abbiamo più foci nello stesso quadrante, multicentrica è quando abbiamo più foci in quadranti diversi. Inoltre, attenzione che fino a un 7% dei casi abbiamo il riscontro di tumori occulti nella mammella controlaterale, proprio per il comportamento insidioso del tumore lobulare. Quindi assolutamente qui, prima di proporre qualsiasi tipo di percorso terapeutico, la risonanza magnetica è fondamentale. Terzo caso che vi avevo proposto era quello di un tumore triplo negativo di 16 mm nel quadrante superesterno della mammella sinistra. Ne abbiamo parlato anche nel post della settimana relativo all'imaging del tumore triplo negativo, è un tumore estremamente aggressivo, purtroppo, perché è negativo ai recettori degli estrogeni del progesterone, è R2 negativo, quindi non ha i recettori per il fattore epidermico umano 2, e quindi è un tumore che a tutti gli effetti, purtroppo, in prima istanza richiede la chemioterapia neoadjuvante. Quindi una chemioterapia destinata a cercare di ridurre le dimensioni dello stesso. Ovvio che tra le indicazioni della risonanza magnetica, ve lo ricordo, c'è anche quello di andare a spadiare la malattia in chi si sottopone a chemioterapia neoadjuvante. Quindi abbiamo un quadro iniziale, e perché facciamo la risonanza? Proprio perché è più dettagliata nel darci la dimensione esatta del nodulo, dei noduli, comunque della malattia. E poi si farà una risonanza magnetica al termine del trattamento per vedere il grado della risposta. Ce ne può fare anche un'intermedia, questa è una valutazione che va da centro a centro. Fatto sta che quindi potete vedere sempre dalle linee guida IOM, vi ho proposto questo algoritmo che danno anche loro, in cui facciamo la valutazione del triplo negativo, in questo caso del metastatico, c'è anche per il non metastatico, e vedete che il tipo di chemioterapia che viene adottata dipende ovviamente dall'eventuale mutazione o meno e dalla presenza di altri fattori. Ultimo caso, in realtà era una domanda bonus, era sulle indicazioni alla risonanza magnetica mammaria. Ne parleremo poi di come viene condotta, cosa vedere, quant'altro prossimamente, nel corso del mese, però intanto parliamo delle indicazioni. Le indicazioni sono indicate in quest'altro documento, è lo stesso che vi ho proposto prima sulle linee guida proposto dai Usobi, e ne abbiamo varie. Sicuramente, vi dicevo, c'è il lobulare infiltrante, l'abbiamo visto nel caso specifico, l'abbiamo visto in questa adezione pre-chemioterapia in un agliuvante, la CAP syndrome, che sarebbe il cancro occulto sostanzialmente, in cui abbiamo malattia a livello linfonodale, ma a livello della mammella, mammo ed eco, non riescono ad individuare alcun tipo di tumore. Non c'è nodulo, non c'è calcificazione, non c'è niente. Queste sono le CAP syndrome. E questa è assolutamente un'indicazione, perché la risonanza potrebbe trovare un piccolo focolaio che magari non hanno individuato le altre metodiche. Tra le altre indicazioni indicate nel documento, vedete che c'è il problem solving, che è, ad esempio, quando abbiamo delle situazioni, delle discrepanze tra mammo e eco e prelievo istologico che abbiamo eseguito. Una possibilità da prendere in considerazione è quella di eseguire una risonanza magnetica col mezzo di contrasto. Si valuta da caso a caso, va discusso, anche sulla base dell'esperienza di chi propone l'esame. Se c'è una persona esperta in risonanza mammaria, gli semplifica la vita, magari eseguire la risonanza in questi casi dubbi, viceversa. Se si ha una scarsa esperienza, il rischio è che ci vada a complicare ancora di più le idee. Abbiamo visto che serve per lo screening della mammella controlaterale nelle donne affette da tumore, in particolare, vi dicevo, l'ovulare infiltrante. Vediamo l'indicazione per la valutazione della mammella in caso di metastasi da Ancneum primary carcinoma, che è la CAP syndrome, appunto. La valutazione in corso di chemioterapia in adiuvante, l'esclusione di recidive locali dopo una terapia conservativa, un intervento chirurgico conservativo, può essere valutato, anche qua non è obbligatorio, non tutte le donne che vengono trattate conservativamente vengono poi sottoposte a risonanza. Vale soprattutto laddove i margini di resezione del pezzo operatorio non fossero liberi da malattia o la malattia si estendesse molto vicina al margine, a una distanza inferiore di 2 mm. In questo caso, dopo la radioterapia e dopo i vari controlli, si può eseguire una risonanza magnetica per andare a vedere se c'è un residuo di malattia. Infine, viene usata come screening solo e soltanto nelle donne ad alto rischio, cioè quelle che hanno più del 20% di possibilità di sviluppare una malattia tumorale nel corso della vita. Percentuale che viene valutata attraverso la raccolta precisa dell'anamnesi della paziente, con vari test, il Tiger Cusi, che è uno di questi, che viene anche abbastanza usato. Non troviamo indicazione quindi per il duttale in situ di basso grado, che era quello del primo caso. Come vi ho detto, un'indicazione in fase di studio è per il duttale in situ di alto grado. Quando parliamo di grado, intendiamo quanto le cellule tumorali sono alterate rispetto alla cellula normale. e l'anatomo patologo ci distingue tra i gradi G1, G2 e G3, dove G1 è un basso grado, G2 è un grado intermedio di alterazione, mentre G3 abbiamo delle cellule che sono completamente alterate rispetto alla norma, rispetto a quello che ci aspettiamo. Questo è tutto, ci vediamo alla prossima.